Sesta lezione del mio corso di geografia astronomica. In questa lezione parleremo dei moti della Terra. Parleremo del modo di rotazione, ovvero della rotazione della Terra intorno al proprio asse. Parleremo della rivoluzione che la Terra compie intorno al Sole. E parleremo dei moti millenari, quelli che non possiamo percepire durante le nostre vite, ma che, durante i millenni, causano l'alternanza delle ere glaciali. Cominciamo col più semplice. Ogni giorno vediamo questo moto quando vediamo il Sole solcare la volta del cielo e poi, ore di luce, alternarsi con ore di buio. Questo è il moto di rivoluzione che la Terra compie ogni 23 ore, 56 minuti e 4 secondi intorno al proprio asse. La parte illuminata dal Sole viene chiamata D, mentre la parte in ombra del pianeta è la notte. Tutto quanto il ciclo completo si chiama giorno. Abbiamo il terminatore, o il circolo di illuminazione, che sarebbe la linea che delimita i due emisferi, illuminati e in ombra. Vediamo ora come fa la Terra a ruotare intorno al proprio asse. Qui vediamo il Sole sullo sfondo e il nostro pianeta. Come vedete, solamente una metà ne viene illuminata. Questa è la zona diurna del mondo. Invece, dalla parte opposta, la zona notturna. Quindi abbiamo che in ogni secondo il mondo è per metà illuminato lo Sole, invece per metà in ombra. Come vedete, dalle luci delle città accese, in questa zona è notte piena. Se io adesso accelero il tempo, vi faccio vedere come si muove la Terra. Come vedete, la rotazione procede da ovest verso est e, man mano che la Terra ruota, abbiamo che la parte in ombra si sposta verso la parte illuminata. In questa zona, chiamata terminatore, abbiamo il cambio di luminosità. E qui abbiamo, in questo caso, per esempio, l'alba. Dalla parte opposta, invece, il tramonto. L'inclinazione dell'asse terrestre espone all'illuminazione i due emisferi in modo completamente diverso. Per esempio, l'emisfero nord, durante l'estate, è coricato di circa 23 gradi verso il Sole e questo espone una zona, che è delimitata dal circolo porare artico, dove non tramonta mai il Sole. Se voi guardate, la rotazione del pianeta, con questa inclinazione, fa sì che questa zona, che si trova al di sopra del circolo porare artico, rimanga sempre illuminata durante la rotazione delle 24 ore. Se andiamo nella stessa stagione dalla parte opposta del pianeta, vedremo una cosa simile, ma al contrario. Ovvero, una zona del pianeta rimane sempre in ombra. Eccola qua. In questo momento è l'Antartide. Se noi facciamo passare circa sei mesi, ci ritroveremo nella situazione opposta, in cui, praticamente, l'emisfero sud sarà coricato verso il Sole e l'emisfero nord, al contrario, verso l'ombra. Ecco qua che sta emergendo l'Antartide dalla notte. Adesso rallento. E vediamo che, durante la rotazione delle 24 ore, tutta la zona del continente antartico, che si trova all'interno del circolo polare antartico, rimane sempre alla parte illuminata. Quindi, nelle zone polari del pianeta, a causa della sua inclinazione, invece che un'alternanza di luce e buio di 24 ore, ce l'abbiamo di sei mesi. Adesso mi avvicino per farvi vedere com'è una giornata tipo a queste latitudini. Andiamo sulla superficie dell'Antartide e vi faccio vedere come si comporta il Sole visto dalla superficie. Atterriamo. Ecco qua, il Sole sta all'orizzonte. Ovviamente, a questa latitudine, è molto basso. Andiamo avanti. Lo sto seguendo. Lo seguiamo. Aspettate. Come vedete, mi giro intorno, ma non sta tramontando. Rimane sempre a una certa altezza dell'orizzonte. Magari si alza a un certo punto del giorno, però poi continua a rimanere sempre in alto nel cielo. Ecco, vedete, si sta abbassando all'orizzonte, però a un certo punto si risolleva. Quindi, a queste latitudini, praticamente, per ben sei mesi, durante l'estate, il Sole non tramonta mai. Dall'altra parte, ovviamente, per sei mesi non sforgerà mai. Invece, andiamo a vedere come si comporta il Sole a latitudini diverse. Lo vedremo sul caldo del cielo nell'arco di poche ore. Andiamo in una zona equatoriale, per esempio, andiamo, che ne so, in India, qua, da queste parti, anzi no, in Africa. Ecco. Qui sta sorgendo il Sole sulla costa africana. Scendiamo. Comincia la giornata. Il Sole sta sorgendo all'orizzonte. Lo vediamo che si sta sollevando in alto nel cielo e, man mano che si solleva, la luminosità del cielo aumenta. Se adesso acceleriamo il tempo, vediamo come la giornata progredisce, sempre nell'arco di 24 ore. Dopo poche ore, dipende dalla latitudine, il Sole si riabbassa l'orizzonte e abbiamo la notte. Vedete come il movimento apparente delle stelle ci fa sembrare che sia l'universo a girarci intorno. Infatti, i nostri antenati rimanevano spesso ingannati da questo effetto ottico. In realtà, siamo noi che ci giriamo e tutto ciò che ci sta intorno ci sembra ruotarci intorno. Perfetto. Oltre al giorno e alla notte, quali sono le altre conseguenze che noi non percepiamo di questa rotazione? Beh, ad esempio, il riconfiamento all'equatore della Terra. Infatti, all'equatore la Terra è più larga perché la forza centrifuga di rotazione tende ad appiattire il nostro pianeta. Quindi c'è una specie di equilibrio tra la forza di gravità che tende a dare alla Terra una forma sferica perfetta e la rotazione che tende invece a schiacciarla verso l'equatore. Un'altra conseguenza, invece, sono i moti dei fluidi. Infatti, sulla Terra, abbiamo sia un'atmosfera che un'idrosfera, cioè degli oceani, liquidi. Questi risentono fortemente della rotazione terrestre quando si muovono da nord verso sud o viceversa e acquisiscono un effetto di rotazione. Si chiama forza di Coriolis, quella forza che subiscono i fluidi sulla superficie terrestre e vanno a creare i vortici. Possono essere cicloni quando hanno una rotazione verso l'esterno e anticicloni se invece c'è un risucchio verso l'interno. Vediamo dallo spazio come appaiono. Qui vediamo i dati vettoriali dei venti dell'atmosfera e qui come questi creano dei vortici proprio a causa della rotazione terrestre. Se non ci fosse la rotazione terrestre non ci sarebbe questa forza che va a creare rotazione nei fluidi e non si formerebbero gli uragani o meglio, si formerebbero in modo diverso, non ruoterebbero in questo modo. Poi, visto che la forza centrifuga è massima l'equatore e minima i poli, gli uragani ruotano in senso opposto nell'emisfero sud e nell'emisfero nord. Anche i movimenti degli oceani e delle correnti oceani che sentono la forza di rotazione della Terra e qui infatti vediamo che ogni movimento dell'acqua subisce un effetto Coriolis che crea questi vortici. Se non ci fosse la rotazione terrestre, il movimento degli oceani sarebbe molto più lineare. Invece, la forza di Coriolis imprime questa rotazione a tutti i fluidi in movimento, sia gassosi che liquidi. E questa rotazione avviene in verso diverso nei due emisferi. Visto che la forza è massima all'equatore, abbiamo un movimento anti-orario nell'emisfero nord e invece un movimento orario nell'emisfero sud delle varie circolazioni. Una cosa molto importante che volevo farvi vedere è la circolazione circoantartica. Praticamente, questo è l'unico parallelo del pianeta dove non ci sono terre emerse e la rotazione terrestre imprime l'innesco di questa gigantesca megacorrente che girando intorno al pianeta isola termicamente l'Antartide. Vediamone le prove. In passato si credeva che la Terra fosse ferma. Abbiamo visto che dalla superficie terrestre l'effetto ottico è che il cielo ruota intorno a noi mentre noi siamo fermi. In realtà è il contrario. Ma come hanno fatto i nostri antenati ad accorgersi che la Terra si sta muovendo? Qui entra la prova di Guglielmini. Gian Battista Guglielmini è nato nel 1740 ed è morto nel 1817. Durante la sua vita ha fatto degli esperimenti per verificare il fatto che la Terra rotasse. Vediamo come. Consideriamo la Terra. Essendo una sfera solida la sua rotazione è uguale a entrambi i punti sulla sua superficie. Questo cosa vuol dire? Che se io mi trovo all'equatore e l'equatore allargo 40.000 km un punto sull'equatore deve compiere ben 40.000 km in 24 ore. Man mano che salgo verso i poli il punto sulla superficie deve percorrere un parallelo sempre più stretto per esempio a questa latitudine sarà molto di meno forse 30.000 km man mano che vado su il parallelo è sempre più stretto fino ad arrivare al polo nord in cui è un punto. Una persona che sta in piedi al polo nord nell'arco di 24 ore semplicemente non fa grandi spostamenti e si muove intorno a se stesso quindi più un punto si trova all'equatore e più la sua velocità di rotazione sarà veloce. in realtà la rotazione terrestre è uguale se consideriamo la rotazione angolare ovvero qualsiasi punto compie 360 gradi in 24 ore però in base alla latitudine in cui si trova nelle 24 ore percorre migliaia di chilometri infatti un punto all'equatore va a 1660 km all'ora mentre noi alla nostra latitudine andremo a circa 900 km all'ora chi sta a polo nord come detto prima sta fermo quindi considerando questa caratteristica della rotazione di una sfera solida andiamo a vedere come si può capire dalla superficie se ci stiamo muovendo oppure no lui fece questo esperimento a Bologna dalla torre degli asinelli lasciò cadere un oggetto e vide a che distanza questo oggetto cadde dalla torre se la terra fosse stata ferma l'oggetto sarebbe caduto ai piedi della torre molto stretta alla base però visto che la terra nel frattempo che l'oggetto cade si sta muovendo come sempre mentre l'oggetto cade la terra si sposta un pochino verso est perché abbiamo visto che la rotazione terrestre va da ovest verso est ciò significa che l'oggetto quando arriverà a terra sarà spostato un po' più a ovest grazie a questo esperimento Guglielmini ha provato lo spostamento dell'intero pianeta rispetto all'oggetto in caduta libera andiamo a vedere altri esperimenti la prova di questo scienziato di Parigi come vedremo lui che cosa fece appese un grosso pendolo a un alto soffitto visto che il pendolo è svincolato dalla terra di fatto e libero di muoversi e di oscillare intorno a un piano questo conservando il suo momento di inerzia seguirà un suo movimento pendolare mentre sotto la terra si sta muovendo ed ecco il moto che ne è uscito fuori fatto oscillare per 24 ore questo è il disegno che il pendolo tracciava su un cerchio per terra come vedete nel giro di 24 ore il pendolo cercava di conservare la sua direzione originaria mentre sotto il pianeta si stava muovendo la cosa interessante di questo esperimento è che il disegno che il pendolo fa sul pavimento cambia da latitudine a latitudine tant'è vero che un pendolo a plonord subirà una deviazione minore di un pendolo che si trova all'equatore quindi questo esperimento ripetuto a diverse latitudini dava un disegno diverso proprio perché alle diverse latitudini la rotazione della terra imprimeva una diversa velocità lineare agli oggetti che vi erano appoggiati ora vediamo il moto di rivoluzione o cioè quello della terra intorno al sole la terra impiega 365 giorni o poco più quindi un anno per fare un giro intorno al sole vi ho detto infatti che la terra è inclinata sul suo asse e questa inclinazione durante i 12 mesi dell'anno espone i due emisferi del pianeta in modo diverso generando così le stagioni secondo un principio fisico ben noto un oggetto in rotazione tende a conservare la direzione del suo asse e questo fa sì che la terra mentre ruota intorno al sole espone in modo diverso i due emisferi ci saranno quindi punti dell'orbita in cui l'emisfero nord è maggiormente illuminato e viceversa punti in cui è quello sud da essere maggiormente illuminato di conseguenza ci saranno anche due punti in cui i due emisferi saranno illuminati in modo uguale vediamo ora tramite un simulatore spaziale come vengono illuminati i due emisferi e come questo condiziona l'alternarsi delle stagioni sulla terra vediamo in questa simulazione il lato della terra illuminato e la parte in ombra ovviamente la parte illuminata si trova verso il sole come vedete in questa simulazione in questo momento dell'orbita quindi dell'anno la parte illuminata è maggiormente l'emisfero sud quindi l'emisfero sud è quello maggiormente esposto infatti se io adesso accelero la rotazione terrestre vedete come l'antartide si trova sempre nella zona illuminata del pianeta in qualsiasi punto io mi trovo in antartide per questo periodo dell'anno il sole non tramonterà mai se ora vado invece dalla parte opposta ci sono zone sopra il circolo polare artico dove praticamente il sole in questo periodo dell'anno non sorge mai è sempre notte come vedete quindi qual è la zona che è delimitata con questo periodo di perenne notte perenne giorno nei mesi invernali o estivi semplicemente il circolo polare quindi abbiamo il circolo polare artico che è un parallelo che si trova a 66 gradi latitudine delimita la zona dove in inverno è sempre notte e in estate sempre giorno e dalla parte opposta invece il circolo polare antartico ora se io proseguo con l'anno quindi accelero e mi muovo di circa tre mesi vedrete come cambierà guardate accelero ora come vedete la terra si sta spostando in un punto diverso dell'orbita e di conseguenza i due emisferi vengono illuminati in modo diverso come vedete qui il terminatore si sta spostando verso nord vado ancora più avanti ecco che sta emergendo come vedete in questo momento sono passati tre mesi i due emisferi sono equamente illuminati questo sarebbe l'equinozio di primavera quando siamo nel 21 marzo nell'emisfero nord e equinozio di autunno sempre lo stesso giorno nell'emisfero sud e viceversa il 21 settembre equinozio di autunno nell'emisfero nord e di primavera nell'emisfero sud come vedete il terminatore sta passando attraverso il polo e quindi ovviamente anche in questa stagione le zone che prima erano sempre illuminate e sempre al buio adesso hanno un'alternanza giorno notte abbastanza regolare man mano che io proseguo con l'anno vedrò che la terra va verso l'altro estremo dell'orbita in cui adesso la zona totalmente illuminata è sopra il ciclo aree artico quindi abbiamo la situazione che è invertita rispetto a prima in cui in questo caso è l'emisfero nord essere maggiormente illuminato mentre nell'emisfero sud invece la zona polare che si la zona polare sotto il ciclo polare antattico è perennemente notte quindi in realtà abbiamo l'inversione delle stagioni ovviamente in questo caso è estate nell'emisfero nord e l'inverno nell'emisfero sud voglio farvi vedere la stessa cosa stavolta aiutandoci con i meridiani e i paralleli perché questo? la geografia ci ha permesso di individuare delle linee immaginarie sulla terra che ci aiutano ad orientarci sulla superficie come vedremo in una lezione successiva ci sono i meridiani e i paralleli mentre i meridiani sono tutti quanti uguali i paralleli sono sempre diversi ce ne sono cinque in particolare che sono importanti in questa lezione a parte l'equatore che è il parallelo che passa per la zona più larga della terra abbiamo gli altri due paralleli particolari che sono i tropici del campo e capicorno ed i circoli volari artico ed antartico questi paralleli si trovano a specifiche latitudini non a caso i due primi tropici cancro e capicorno si trovano rispettivamente a 23 gradi 27 primi nord e sud dall'equatore mentre i due circoli artico e antartico si trovano esattamente a 23 gradi e 27 primi dal polo quindi in realtà non sono attitudini a caso ma hanno un motivo che spesso è scontato la terra infatti è inclinata esattamente di 23 gradi e 27 primi questa non è una coincidenza infatti i paralleli delimitano le zone di minima e massimo il raggiamento durante l'increazione massima della terra rispetto al sole nei periodi di solstizio e di equinozio vediamo meglio se io adesso illumino il globo vi faccio vedere in questo momento la zona illuminata del globo è quella dove ci sono le americhe infatti sto registrando questo video alle 8 e mezza di sera come vedete qui è notte siamo in una zona siamo a marzo in questo momento oggi è il 9 marzo e praticamente il terminatore passa attraverso il poro quindi stiamo in una situazione in cui ci stiamo avvicinando verso l'equinozio perché sarà il 21 marzo tra due settimane comincia la primavera e abbiamo che i due emisferi sono equamente illuminati più o meno infatti il 21 marzo il giorno dell'equinozio tutte le latitudini il giorno avrà la stessa durata adesso se io sposto il mio calendario e lo metto in un giorno diverso per esempio adesso prendo l'orologio di Google Earth io adesso sposto il calendario di Google Earth andiamo al sostizio d'estate che sarà tra qui a tre mesi 21 luglio giugno 21 giugno 21 giugno quindi tra tre mesi vediamo che è cambiata l'illuminazione del globo infatti come vedete il circolo polare artico delimita esattamente la zona dove ruotando la terra sarà sempre illuminata vedete qui praticamente la terra ruota ma la zona che si trova dentro il circolo polare artico rimarrà sempre illuminata dalla parte opposta la zona che si trova dentro il circolo polare artico sarà sempre illuminata cosa significa questo che nell'emisfero nord il 21 giugno è piena estate è il solstizio di estate ovvero il punto in cui nell'emisfero nord la giornata sarà più lunga dall'altra parte nell'emisfero sud invece abbiamo il punto di minima illuminazione l'emisfero sud quindi la giornata sarà più breve quindi cosa significano giornate più lunghe significa un riscaldamento maggiore l'emisfero nord è piena estate mentre l'emisfero sud è pieno inverno quindi in realtà le stagioni come molti spesso mi dicono erroneamente alle interrogazioni non sono quando la terra è più lontana o più vicina al sole ma semplicemente sono manifestazioni dell'inclinazione terrestre e le estate le abbiamo nell'emisfero nord quando questo è corrigato verso il sole e contemporaneamente quando quello sud è nella parte in ombra del pianeta maggiormente viceversa se io adesso sposto l'orologio e vado al prossimo equinozio adesso vado al prossimo equinozio quindi andiamo al 21 settembre ecco qua il 21 settembre la terra è tornata a essere in un periodo di equinozio in cui i due emisferi sono allineati in modo uguale sarà equinozio di autunno l'emisfero nord equinozio di primavera l'emisfero sud come vedete il terminatore passa per il polo adesso mi sposto di altri tre mesi e vado verso il verso il natale quindi andiamo al 21 dicembre ed ecco che stavolta la situazione è ribaltata rispetto a prima il terminatore avrà superato il ciclo di polare artico e antartico e tutto quello che si trova a nord comunque sia all'interno del ciclo di polare artico sarà in ombra e in piena notte per i prossimi tre mesi mentre tutto quello che si trova all'interno del ciclo polare antartico resterà illuminato per atti tre mesi fino al prossimo punto di equinozio quindi vedete che le stagioni sono contemporanee e invertite nei due emisferi quando l'emisfero nord come in questo caso è corrigato verso la parte in ombra del pianeta abbiamo l'inverno qui e dalla parte opposta l'emisfero sud con l'australe sarà corrigato verso la parte del sole sarà corrigato verso il sole e quindi avrà piena estate quindi le stagioni per questo motivo sono sempre invertite nei due emisferi quando a nord è estate sotto a sud è inverno e viceversa sei mesi dopo mentre nei due punti di guinozzi i due emisferi sono illuminati in modo uguale vedremo poi in una prossima lezione maggiori dettagli su questi paralleli e i suoi meridiani in particolare qui vediamo una slide che mostra i due emisferi nei due punti di guinozio come vedete tutti i due emisferi si trovano equamente illuminati e il terminatore passa per i poli quindi vediamo che a tutte le latitudini il giorno ha la stessa durata quello che cambia è l'altezza del sole dall'orizzonte come vedete all'equatore il sole si trova esattamente a 90 gradi rispetto all'orizzonte mentre man mano che mi sposto verso i poli il sole si trova sempre più basso come vedete nei tropici a 23 gradi e 27 primi dall'equatore hanno il sole a 66 gradi e 33 primi allo zenith mentre se vediamo i circoli che stanno a 66 e a 33 gradi di latitudine praticamente quindi a 27 dal polo il sole si trova appunto a 23,27 gradi dall'orizzonte e quindi i raggi sono sempre meno forti perché sempre più inclinati questi sono i due equinozzi 21 marzo e 23 settembre nell'altra slide invece vediamo gli altri due casi cioè quando abbiamo i sostizi nel primo caso abbiamo l'estate a nord ed inverno a sud perché la terra è coricata con l'emisfero nord verso il sole vedete che il terminatore fa sì che tutto ciò che sta dentro il ciclo polare artico rimane sempre nella zona illuminata del pianeta a nord e tutto ciò che sta nel ciclo polare antartico rimane nella zona in ombra del pianeta e questo è praticamente la condizione della terra il 21 giugno il 22 dicembre quindi nel sostizio di inverno abbiamo che la situazione è invertita a nord è inverno a sud d'estate e il terminatore come vedete mette in ombra tutto ciò che sta dentro il ciclo polare artico e mette al sole tutto ciò che sta dentro il ciclo polare antartico come vedete in questi momenti dell'anno il sole si trova ad altezze diverse rispetto all'orizzonte rispetto ai due guinozzi nella zona nord quando è estate abbiamo il 21 giugno il giorno più lungo che può avere durante l'anno e viceversa a sud quello più corto e poi al contrario abbiamo il 22 dicembre il giorno più corto l'emisfero nord e quello più lungo l'emisfero sud queste sono le condizioni che generano le stagioni cosa comporta avere il sole a diversa altezza rispetto all'orizzonte beh ovviamente il riscaldamento della superficie più il sole si trova in alto nel cielo più i suoi raggi arrivano concentrati sulla superficie il punto più illuminato del pianeta è praticamente l'equatore che è la zona dove i raggi erano belli dritti quello meno illuminato spesso sono i poli dove i raggi arrivano molto ridotti come vedete infatti nella nostra latitudine l'irraggiazione solare verso l'Italia si trova a circa 600 watt per metro quadrato come vedete però in realtà questo varia anche durante le stagioni è ovvio che in estate il rirraggiamento è maggiore perché il sole ci appare a un'altezza zenitale maggiore quindi l'alternazza delle stagioni è nulla all'equatore dove durante l'anno il rirraggiamento è sempre lo stesso mentre è massima ai poli tant'è vero che i poli hanno 6 mesi di giorno e 6 mesi di notte però è variabile alle zone temperate nelle zone temperate si nota moltissimo la differenza tra l'estate e l'inverno perché cambia tantissimo le ore di illuminazione e le modalità di illuminazione cioè d'inverno il sole è più basso l'orizzonte mentre l'estate è più alto mentre all'equatore le stagioni non si percepiscono c'è un'unica stagione costante tutto l'anno se non due dovuta a una secca e una umida per i monzoni nelle zone temperate e polari ci sono 4 stagioni la durata di un crepuscolo dipende sia dalla stagione che dalla latitudine vediamo un po' la stagione infatti in inverno il sole è molto più basso l'orizzonte questo significa che non solo le giornate sono corte ma anche i crepuscoli tendono ad arrivare e finire prima mentre in estate con il sole molto più alto all'orizzonte il crepuscolo tende a durare un po' di più la durata del crepuscolo varia anche durante la latitudine infatti ad alte latitudini il crepuscolo è molto più lungo può capitare a volte che nei paesi nordici d'Europa o anche in Canada il sole comincia a tramontare alle 10 di sera e a mezzanotte c'è ancora un po' di luce nel cielo ma anche le nostre latitudini in Italia a volte il sole tramonta alle 9 9 e mezza e alle 11 c'è ancora un po' di luce nel cielo mentre all'equatore normalmente in tutto l'anno non cambia mai l'ora di tramonto verso sempre 18-19 di sera e in quel caso il passaggio tra la notte e il giorno è veramente molto rapida che cos'è l'aberrazione? l'aberrazione è l'effetto del movimento della terra intorno al sole che percepiamo guardando le altre stelle mentre noi ci muoviamo intorno al sole anche le stelle si muovono secondo il loro percorso e riusciamo a percepire questo movimento vedendo una differenza tra la reale direzione della luce e invece quella che vediamo noi mi spiego meglio girando intorno al sole noi vediamo la luce di una stella che si trova sul nostro piano vediamo la luce di una stella che si muove in un certo modo rispetto a come si muove realmente però questo effetto varia in base alla prospettiva infatti è massima per una stella che si trova perpendicolarmente sul nostro piano di orbita è minima invece se la stella giace sul piano orbitale questo ci permette di poter avere un'ulteriore prova visiva che oggi non serve più però in passato serviva del movimento della terra intorno al sole vediamo adesso il parallasse il parallasse invece è un fenomeno anche questo provato per spiegare il movimento intorno al sole ma in realtà viene oggi utilizzato anche per misurare la distanza delle stelle dalla terra infatti si utilizza la trigonometria ovvero si vede la stessa stella in due momenti diversi dall'anno o anche più e vedere come appare da diversi punti della robita della terra la terra gira intorno al sole quando sta qua o quando sta qua o quando sta qua questa stella ci compare in una prospettiva leggermente diversa il parallasse semplicemente è l'angolo che la direzione che collega la terra con questa stella forma con l'asse del nostro piano orbitale dal parallasse deriva il parsec che è una utile unità di misura per misurare le distanze infatti è vero che noi utilizziamo gli anni luce però a volte gli anni luce non bastano o comunque sia è stata sviluppata questa ulteriore unità di misura che ci aiuta a misurare distanze così grandi un parsec che corrisponde circa a tre e mezzo anni luce però vediamo meglio come funziona questa è la terra che si trova in un punto specifico dell'orbita viene misurato l'angolo che questa stella fa con la nostra visuale e l'asse del piano se questo angolo raggiunge se questo angolo forma un secondo di grado d'arco allora questa distanza è di un parsec e praticamente quindi il parsec è la distanza dalla quale si vede il semiasse maggiore dell'orbita del resto sotto un angolo di un secondo d'arco qui ci sono alcune unità di misura dello spazio vediamo un po' l'unità astronomica che sarebbe la distanza della terra del sole quindi si fissa questa distanza come una unità astronomica è ovviamente convertita in anni luce e in parsec un anno luce che sono 9461 miliardi di chilometri corrispondente a 63.240 unità astronomiche un anno luce e il 30% circa di un parsec e poi abbiamo il parsec che sono 30.086 miliardi di chilometri 206.296 unità astronomiche 3,2 infatti non era 3,5 3,25 anni luce quindi un parsec queste sono unità di misura che vengono utilizzate in astronomia ancora possiamo farle anche letteralmente a mano praticamente se andiamo di notte in campagna e proviamo a vedere il cielo e distendiamo il braccio davanti a noi lo spazio coperto da un dito corrisponde a un primo di grado di cielo mentre le varie porzioni di dito corrispondono a 6 4 3 gradi o la mano intera a 10 e 20 gradi quindi diciamo che possiamo misurare a mano porzioni di cielo semplicemente stendendo la mano davanti a noi con la lunghezza di un braccio vediamo adesso i moti millenari ovvero sono dei moti che noi non possiamo percepire durante le nostre vite perché sono molto lunghi ma di fatto condizionano fortemente la vita sulla Terra infatti la Terra subisce la fossa di cavità degli altri pianeti del sistema solare e questo deforma regolarmente la sua orbita in questo momento geologico ci troviamo in una situazione in cui la parte più vicina al Sole dell'orbita della Terra quindi il perielio corrispondono nell'emistro nord le stagioni di autunno e inverno quindi diciamo che paradossalmente a quello che possiamo pensare abbiamo un inverno quando la Terra è più vicina al Sole mentre nella zona di afelio cioè la zona in cui la Terra è più lontana dal Sole abbiamo in corrispondenza primavera e estate quindi in realtà questa è un'ulteriore prova del fatto che non è la distanza del Sole a creare le stagioni ma la sua inclinazione sull'asse cosa succede invece se le situazioni si invertono visto che la Terra deforma regolarmente la sua orbita in base all'interazione con gli altri pianeti possa capitare l'inverno nella felio e l'estate in zona di perielio cosa comporta questo sul clima terrestre comportano estati più brevi e inverni più lunghi quindi significa che tutta la neve che si accumula durante l'inverno potrebbe non riuscire a fondersi durante l'estate questo causa un accumulo di neve sempre maggiore che nel tempo può creare l'inizio di un'era glaciale quindi questo fenomeno modifica l'irraggiamento solare durante le stagioni in diverse epoche geologiche e come si traduce questo sul clima terrestre con le ere glaciali che cos'è un'era glaciale è un periodo in cui la terra ha una temperatura media più bassa rispetto a quella odierna e questo ovviamente comporta uno spostamento delle fasce climatiche questa è la mappa praticamente di come erano i ghiacciai durante l'ultima era glaciale come vedete gran parte dei continenti delle terre emerse nel mistero nord ma una piccola parte anche nel mistero sud erano coperti da ghiacciai cioè quello che oggi vediamo solamente in Antartide e in Groenlandia ovvero questi giganteschi ghiacciai che li ricoprono in tre continenti in realtà era una caratteristica comune in gran parte dei continenti oggi densamente popolati come il nord Europa e il nord America vediamo qui un dettaglio di come era l'Europa diciamo che il ghiacciaio che copriva il nostro continente aveva completamente seppellito gran parte della Gran Bedragna e paesi baltici in nord della Germania e anche qui tutta l'isola scandinava ovviamente tutto questo ghiaccio sottraeva acqua agli oceani e infatti il livello del mare era anche fino a 150 metri più basso dell'attuale e qui vediamo che la Gran Bedragna era unita fisicamente all'Europa cioè questa zona qua che oggi è il mare della Manica emergeva e che la pietra padana arrivava quasi fino in Abruzzo o nelle Marche ovviamente qui possiamo vedere le linee di costa dell'epoca quando tutto questo ghiacciaio si è sciolto l'eo del mare è tornato a raggiungere il livello attuale e oggi con l'ulteriore cambiamento climatico sta continuando ad aumentare l'eo del mare queste aree graciali ci sono sempre state oppure semplicemente è una caratteristica momentanea il clima terrestre è condizionato dalle correnti oceaniche qui vediamo l'attuale corrente oceanica che distribuisce il calore della Terra vedremo questo in dettaglio nella lezione degli oceani però perché ci interessa perché 3 milioni di anni fa questa zona del Messico era aperta e praticamente l'acqua dell'oceano Atlantico poteva fluire nel Pacifico queste erano un acceperato di isole che nel tempo si sono unite a formare un ponte di terra continuo la corrente oceanica è modificata l'acqua del Pacifico doveva attraversare tutto il globo prima di tornare nell'Atlantico non c'era un meccanismo che qua collegava e di conseguenza questo ha ridotto notevolmente la capacità della corrente oceanica di riscaldare le zone polari quindi quando la Terra si trovava in posizioni in cui in inverno gli permetteva di accumulare molta neve quindi con l'afeglio in inverno abbiamo avuto l'inizio delle ere glaciali infatti le ere glaciali sono state diverse sono circa un milione di anni o più che praticamente sono alcuni milioni di anni non tanti in cui la Terra sta attraversando un'era glaciale di 100.000 anni ogni era interglaciale di 10.000 anni quindi qui vedete questo è l'ottierno noi ci troviamo adesso in un momento di interglaciale quindi un periodo caldo è quello che ha permesso praticamente l'invenzione dell'agricoltura l'associazione delle costruzioni delle città quindi la nostra civiltà è un prodotto di questa era interglaciale però come vedete siamo usciti 18.000 anni fa da un'epoca glaciale questa qua come vedete che è durata i suoi buon 100.000 anni c'è stato un altro periodo interglaciale precedente più breve e poi un'era glaciale ancora di 100.000 anni e così via e queste aree glaciale praticamente ci dicono che la Terra subisce con questi modi millenari questa interferenza dagli altri veneti del sistema solare i modi millenari della Terra si traducono in un'era glaciale di 100.000 anni ogni era interglaciale di 10.000 che vanno avanti ritmicamente da diversi migliaia se non milioni di anni ecco come doveva aprire l'emisfero nord della Terra 20.000 anni fa con le calotte di ghiaccio che ricoprivano gran parte delle zone oggi densamente popolate del nord America e del nord Europa quindi i modi millenari sono una conseguenza delle precessioni degli equinozi infatti ogni anno la Terra raggiunge il suo afeglio qualche giorno prima rispetto all'anno precedente e questo in millenni sposta praticamente le stagioni lungo la sua orbita quindi facciamo un piccolo riepilogo tutti questi movimenti dal più breve al più lungo sono i moti del pianeta e come vedete i moti millenari sono quelli sono tutti questi qua sono quelli che poi condizionano l'alternanza delle aree graciali che vanno dai 26.000 anni dalla processione lumisolare a quella di 41.000 dell'asse terrestre infatti questo noi lo vediamo ad esempio anche in alcuni manufatti antichi costruiti dagli esseri umani per esempio Stonehenge è il più famoso questo è stato costruito migliaia di anni fa ed era ancora non si sa oggi esattamente qual era il suo scopo a volte ci facevano sacrifici a volte un tempio a volte anche una specie di calendario che aveva le sue strutture orientate i punti in cui il sole e la luna sorgevano e tramontavano all'orizzonte però visto che la terra si sposta e che sull'asse di inclinazione e come abbiamo visto altri movimenti modificano la sua orbita oggi questo calendario non è più sincronizzato con il sole e con la luna tant'è vero che i punti in cui dovevano tramontare e sorgere la luna secondo questo manufatto umano oggi non sono più calibrati sono sfocati cosa significa che la luna secondo questo calendario non tramonta dove dovrebbe tramontare e così via se andiamo a vedere quando è stato costruito il sole tramontava esattamente dove il calendario prevedeva il suo punto di contatto con l'orizzonte quindi di fatto questo calendario umano è stato costruito quando la terra compiva dei moti diversi dall'attuale ed è un'ulteriore prova di questi moti milenari che vediamo qui quindi una piccola scheda tecnica che ci mostra un risunto della lezione i moti della terra si possono distinguere in brevi e molto lunghi ci sono quelli che vediamo tutti i giorni la rotazione che lo percepiamo sotto forma di alternanza giorno e notte con le sue prove che sono l'esperienza di Guglielmini dalle torri di Asinelli a Bologna e l'esperienza di Foucault in Francia come vedete poi abbiamo invece la rivoluzione che sono i moti che si sviluppano durante l'anno e che vediamo con l'alternanza delle stagioni le prove di questo movimento come abbiamo visto sono l'aberrazione anno e la parallasse che sono la prospettiva diversa in cui vediamo le stelle nei diversi punti dell'orbita durante l'anno e poi ci sono i modi millenari ovvero quelli che noi non possiamo percepire durante le nostre vite perché sono molto lunghe ma che percepiamo dai sedimenti geologici con le modificazioni del clima terrestre durante le ere geologiche degli ultimi centinaia se non milioni di anni quindi questa scheda sintetizza un po' tutta la lezione appena vista nella prossima lezione vorrei parlare della luna e quindi non solamente i suoi moti intorno alla terra e gli effetti che ha sulla terra ma anche la sua struttura interna la sua formazione e qualche cosa in più alla prossima lezione la sua formazione Grazie.